Siamo qui a presentare un libro interessantissimo di cui parleremo con l'autore Gigi Moncalvo che non avrebbe bisogno di presentazioni perché è una firma di grande prestigio del giornalismo nazionale della carta stampata, delle televisioni è un volto che avrete visto sia nelle reti Mediaset e il Rai è stato anche dirigente sia Mediaset che il Rai adesso è un vulcano di idee oltre ad essere uno scrittore di rango perché scrivere un libro così non è facile è complicatissimo per tante ragioni ci vogliono competenze, professionalità, esperienza anche una certa lucidità nel seguire un filo logico questo non è il primo libro sulla famiglia Agnelli famiglia Agnelli che giustamente Moncalvo definisce la Royal Family d'Italia ex ex Royal Family d'Italia che ha una storia che tutti gli italiani dovrebbero conoscere direi che questo volume in particolare che si concentra sulla guerra per l'eredità dell'avvocato Agnelli dovremmo leggerlo tutti perché la storia dell'Italia in fondo è legata soprattutto alla storia di questa famiglia e leggerlo significa capire anche perché la politica economica, finanziaria, industriale urbanistica dei trasporti e perfino dello sport oltre che dell'informazione in Italia ha preso una direzione no Gigi piuttosto che un'altra io direi di seguire il filo logico del tuo libro partendo da una figura chiave che è quella della figlia dell'avvocato la Margherita Agnelli da cui tu fai cominciare diciamo questo volume focalizzandoti sull'aspetto appunto del testamento quando Margherita arriva convinta forse alla lettura, all'apertura del testamento di poter unendo le sue quote societarie con quelle del figlio John Elcan e della madre Marella di poter essere la vera erede diciamo dell'avvocato e scopre invece che le cose stanno molto diversamente grazie delle tue parole grazie per l'organizzazione grazie a Italo per la sua consueta sensibilità culturale in questa rassegna dell'isola del libro grazie a voi per essere qui e a coloro che ci ascoltano da casa sì Margherita Agnelli è contrariamente a quello che si pensa perché è una figura antipatica la gente dice ma con tutto quello che ha avuto con tutti i soldi che ha perché continua in questa battaglia è una battaglia di una donna in un mondo fatto di uomini il mondo della famiglia Agnelli è un mondo in cui la regola principale del fondatore, il vecchio senatore Giovanni Agnelli il nono di Gianni era la seguente in caso di eredità e di controllo delle quote non ci deve mai essere una donna pensate un po' ma le donne devono essere liquidate le loro azioni devono essere liquidate in denaro e a comandare devono essere gli uomini un uomo solo alla volta e questa può anche essere una buona regola per evitare litigi e conflitti ma in questo caso non è servita a niente perché ha determinato un gigantesco conflitto anzi due il primo quando Margherita non accettò di firmare il testamento che era stato fatto in Italia un testamento che riguardava pochi milioni di euro saranno cifre che vi faranno in non ridire ma l'avvocato Agnelli in Italia ha lasciato soltanto 216 milioni se voi lo paragonate con le grandi liti ereditarie che ci sono state negli ultimi anni per personaggi famosi vi mettete a ridere per esempio facciamo un esempio Luciano Pavarotti ha dato vita con il suo patrimonio a un contenzioso tra la prima moglie e Adua e poi la seconda moglie eccetera per un patrimonio almeno 10 volte più grande di quello lasciato da Agnelli ci sono cause per la ridà Alberto Sordi ha lasciato più di 100 milioni di euro possibile che l'avvocato Agnelli fosse ricco solo due volte rispetto ad Alberto Sordi oppure Gianni Baggetbozzo Oriana Fallaci Lucio Dalla in genere si vengono a sapere queste lotte ereditarie di personaggi dello spettacolo qui quindi Margherita Agnelli non accetta l'eredità di suo padre non l'accetta perché la considera irrisoria rispetto al patrimonio reale che suo padre aveva e non l'accetta con la seguente motivazione prima di firmare questa accettazione voglio andare a vedere tutto quello che c'è fuori dove fuori potete intenderlo in due modi fuori dall'Italia come lei voleva dire o fuori fuori da questo testamento allora si apre un grande contenzioso con sua madre con degli avvocati che non fanno il loro mestiere almeno quello di Margherita e che alla fine dopo sei mesi soltanto di lavoro le chiedono una parcella due avvocati uno italiano e uno svizzero di 25 milioni di euro una cifra folle 25 milioni di euro con la differenza che l'avvocato svizzero per i suoi 10 milioni di euro rilascia la parcella pagando le tasse nella configurazione irvetica invece l'avvocato italiano dice gettile Margherita dato che si tratta di denaro in nero raccolto da suo padre nel corso degli anni per non pagare le tasse per cortesia vorrebbe pagare anche me in nero dove sul mio conto corrente all'UBS l'Union de Bank Suisse filiale di Singapore poi Margherita lo denuncerà sarà costretto costui a restituire il denaro subire un processo verrà condannato eccetera allora dopo questi sei mesi di trattativa dopo la morte di Gianni Agnelli le due eredi e qui cominciamo a fare dei calcoli perché noi questa sera riusciremo a quantificare quanto denaro Gianni Agnelli ha portato via al fisco italiano per non pagare le tasse e lo ha portato all'estero si tratta di denaro nostro denaro nostro sotto forma di incentivi alla cassa del mezzogiorno per costruire degli stabilimenti fiat che oggi sono chiusi con gli operai in cassa integrazione per favorire la politica del trasporto su gomma la costruzione dell'autostrada anziché il trasporto su rottaio e via mare per gli incentivi per la rottamazione per il contingentamento dell'importazione delle auto straniere come c'era fino a qualche anno fa per il regalo che Romano Prodi fece alla Fiat quando le regalò l'Alfa Romeo nonostante ci fosse la Ford che volesse comprarla e quindi pagarla beh tutto questo denaro noi lo abbiamo visto prelevare dalle nostre tasche e continuiamo a vederlo prelevare attraverso la formula della cassa integrazione a carico dell'Inps quindi nostra per gli operai della Fiat rimasti senza lavoro e la famiglia Agnelli non ha mai restituito neanche sotto forma di occupazione di nuovi modelli produttivi di incentivi allo sviluppo questo denaro neanche sotto forma di tasse e se lo è portato all'estero quindi noi stasera vedremo il conto e il conto cominciamo a vederlo allorché l'accordo tra madre e figlia dopo questi sei mesi di trattative con gli avvocati stabiliti a Ginevra porta a una conclusione a una conclusione che ancora oggi dopo vent'anni è subiudice perché Margherita si è accorta di essere stata fregata di essere stata truffata e quindi dopo aver denunciato la madre dopo la morte della madre a febbraio 2019 ha denunciato suo figlio John che è stato l'erede universale insieme a Lapo e Ginevra suo fratello e sua sorella notare che Marell Agnelli aveva otto nipoti tre di primo letto di Margherita con Alenel Khan quello famoso per quel racconto delirante su Repubblica a luglio il viaggio in treno verso Foggia tra i Lenzichenecchi dove lui diceva all'improvviso mi accorgo di essere a Benevento lui pensava che da Roma a Foggia uno passasse da Courmayeur probabilmente invece dice oddio ho sbagliato treno sono a Benevento sei sul treno giusto questi gli hanno pubblicato una pagina il papà dell'editore figuriamoci sono gli pubblici allora i tre figli di primo letto viene lasciato tutta la gran parte del lavoro ma a Ginevra quel giorno del 2004 un anno dopo la morte di Gianni Agnelli dopo sei mesi di queste trattative legali la spartizione è questa adesso non inorridite per le cifre Margherita accetta di firmare questo accordo in cambio di 1,15 miliardi cioè 1 miliardo e 150 milioni di euro in cambio di questo lascia le sue quote delle società più importanti che sono la dicembre la cassaforte di famiglia che controlla la Exor eccetera lascia le quote della Giovanni Agnelli società e la comandita la nonna le gira subito ai nipoti e oggi queste quote valgono almeno 20 volte tanto comunque Margherita Agnelli prende 1 miliardo e 150 milioni quindi tenete presente questa prima questa prima cifra però ti volevo invitare a sottolineare anche questo cioè che appunto l'enormità della cifra che lei accetta a noi comuni mortali sembra una cosa incredibile di fatto però questa guerra poi continuerà nonostante tutto anche dopo la morte della madre poi parleremo anche di Margherita di come anche lei gestirà i suoi rapporti con i suoi figli avuti da De Palen e in particolare con questa figlia Maria la quale anche lei diciamo non si comporta da perfetta o meglio da quella madre che nell'immaginario comune è il ruolo che si deve svolgere però dicevo sullo sfondo quello che si capisce da subito da questa tua affermazione è che la guerra non è solo sulle cifre economiche sui soldi è proprio sulle quote societarie perché sono quelle che danno diciamo il reale potere sul controllo di tutto quell'enorme patrimonio tesoro interessi che ci sono non tanto dentro ma fuori appunto come come sospettava lei e come cercava di capire poi vedremo gli altri attori di questa di questa vicenda che sono i rapporti anche fra John Elkan e i suoi fratelli chi è dalla sua parte chi pur escluso dal testamento decide comunque per comodità di appoggiarlo dopo la morte della nonna e chi invece diciamo cerca di stabilire o di avere un confronto anche lì molto complesso e complicato su altre vicende che sono gli altri eredi del ramo agnelli che sono il cugino Andrea e il cugino Alessandro Nasi sui quali poi che hanno che hanno svolto diciamo un ruolo di riferimento rispetto ai loro rispettivi rami di famiglia sì noi però dobbiamo sempre ritornare quel giorno a Ginevra rispondendo alla domanda perché Margherita Agnelli che in fondo a questo accordo scrive nel libro c'è la riproduzione di questa sua calligrafia di questo suo testo accetto per ottenere la pace con mia madre questo rendi conto anche se ai miei occhi le cifre non sono reali poiché c'è di più molto di più quindi lei era consapevole di essere stata fregata ma noi non dobbiamo farci abbagliare dal miliardo e 150 milioni che poi non sono un miliardo e 150 milioni sono molto di più perché noi ci dobbiamo aggiungere i quadri della collezione Agnelli 309 opere d'arte che avevano un valore di oltre 200 milioni di dollari in quel momento quindi a quel milione 150 ci dobbiamo aggiungere altri 200 che è un valore basso oggi sicuramente 10 volte di più ma perché quindi firma se sa che quelle cifre non sono reali ma perché noi dobbiamo metterci nei panni di un ricco spropositato il quale ha sì come la signora Agnelli azioni obbligazioni partecipazioni ma alla fine del mese deve pagare la servitù la guardarobiera i camerieri chi le cura i giardini lo stagliere che cura i suoi cavalli chi le raccoglie i kiwi delle sue piantagioni il riscaldamento la scuola per i figli la benzina per le macchine quindi ci vuole del contante e dato che il contante non ce n'era bisognava accettare ho torto collo questa cifra che era enorme quindi 1,150 più 200 siamo a 1,350 con la madre che dice per questo grande sacrificio io poverina eccetera mi accontento di qualcosa circa la metà di quello che hai preso tu figlia mia cioè mi accontento di 550 milioni continuiamo a fare la somma 1,150 più 200 per i quadri 1,350 più 5,50 siamo a 1,9 ci stiamo avvicinando a 2 miliardi alt perché la madre dice dato che mi devo privare anche della mia collezione quando non ci sarò più diventerà tua io voglio che questo usufrutto venga in qualche modo ricompensato non dalla presenza di questi Picasso alle pareti ma venga ricompensato dal modo come io in questi prossimi anni terrò i quadri li conserverò bene per fare l'usufruttuaria brava anziché fare l'usufruttuaria cattiva che li fa marcire che non ripara le cornici che non fa la manutenzione ti chiedo e Margherita accetta una pansione una pansione non la pensione la pansione come dice l'avvocato svizzero di Marella che è di 7 milioni di euro l'anno cioè aver agonato con la vostra pansione quindi sono 600 e passa mila euro di pansione ogni mese no 600 e dato che Marella ha vissuto 15 anni si è presa per 15 anni la pansione di 7 milioni che sono 105 milioni di euro che Margherita appena è morta la madre ha chiesto indietro con gli interessi quindi 105 che aveva versato più gli interessi sono arrivati a 156 li ha chiesti indietro perché dice ma hanno fregato perché quell'accordo era nulla quindi mettiamoci in questa ottica mettiamoci in questa ottica la battaglia che nasce da lì è sanguinosa perché Margherita appena si accorge di essere stata fregata e se ne accorge molto in fretta perché succede una cosa che non non accade mai nelle famiglie normali perché dopo che i suoi avvocati hanno chiesto la parcella di 25 milioni che cosa succede vista la sua reazione molto negativa oddio 25 milioni potevate dirmelo prima non ne abbiamo mai discusso eccetera che cosa succede succede che gli avvocati vanno a lamentarsi da qualcuno dicendo guardate che questa non vuole pagare la nostra parcella così alta e allora chiamano la cliente e le dicono una cosa che non succede mai signora c'è una bella notizia hanno sbagliato i conti quindi non le devono un miliardo e 150 milioni ma le devono 20 milioni in più hanno sbagliato il calcolo del cambio euro dollaro vi succede mai che vi chiamino per dirvi torni qui e lei ha venduto una casa ma le dobbiamo dare più di quello che le abbiamo dato e lei capisce che questi erano al servizio della controparte e lo scriverà poi nel suo libro uno di questi avvocati che denunciato da Margherita per aver accettato in nero la sua parcella e non aver rilasciato la sua fattura lo scriverà in un libro sconsiderato per un avvocato perché viola il segreto professionale la insulterà io ho raccolto 110 termini contenuti in questo libro e lei dirà soprattutto che lui ha incontrato più volte la controparte cosa che un avvocato non deve fare l'avvocato può incontrare l'avvocato della controparte oppure la controparte ma insieme all'avvocato lui invece dice ho incontrato più volte Marella Agnelli che era la mia avversaria perché rappresentavo Margherita la quale mi ha promesso che se avessi fatto ragionare sua figlia mi avrebbe lasciato un legato a mio nipote un caracciolo che sta morendo per cancro tu dici che ti ha offerto del denaro non solo ma dice che anche il suo capo dello studio Chiomenti uno dei più grandi studi legali che esistono non in Italia ma in Europa il famoso avvocato Carpinelli di cui non esistono fotografie non si consa la sua voce eccetera che cosa dice lo chiama e gli dice caro Lele questo avvocato si chiama Emanuele Gamena se tu fai ragionare la tua cliente la Fiat mi ha fatto sapere da Torino che dopo aver abbandonato il nostro studio alcuni anni fa figuratevi cosa significa avere come cliente la Fiat potrebbe tornare ad affidarci delle pratiche legali se tu farai ragionare la tua cliente e farai abbassare le tue pretese quindi lo dice lo ammette no? E quindi questo è un ginepraio dove si mescolano sentimenti personali odi rancore ma soprattutto coltellate ecco il titolo del libro Agnelli Coltelli alla schiena sempre abbiamo una madre che accoltella la figlia e viceversa abbiamo poi un figlio il figlio John di Margherita che accoltella la madre e viceversa con contorno di tutta una serie di storie che non sto qui a raccontarvi ma che l'editore quando ha visto il libro è inorridito vedendo il volume e abbiamo tagliato più di 300 pagine ancora perché sennò veniva fuori un volume della Treccani qua e quindi dovete leggerlo perché è una storia un romanzo vero che vi fa capire l'animo umano come non si accontenta di fronte a nullo nel calcolo dei soldi portati all'estero dall'avvocato Agnelli mi pare che siamo arrivati 1,50 più 200 dei quadri 1,350 più 500 della madre 1,9 miliardi quindi 1,9 miliardi adesso poi andremo avanti esatto non è finita con 1,9 miliardi se mica ha portato via 1,9 miliardi allora intanto dobbiamo parlare di questi verbali e questi documenti secretati che vengono portati per la prima volta la luce nella storia di questa ex royal family da una componente proprio degli Agnelli e guardate che il cognome Agnelli lo ricordiamo perché è cosa che era diciamo venuta fuori ma forse rimasta un po' nella gran parte delle persone nelle orecchie come una cosa che forse poteva essere anche quasi fattibile sembrava quasi normale quando l'avvocato Agnelli a un certo punto dà vita probabilmente accettando il suggerimento di quelli che tu definisci due risceglie dietro anche allo stesso avvocato dà vita a questa procedura per cercare di fornire al nipote John Elkan il cognome Agnelli perché un conto è essere il capo e forgiarsi del cognome Agnelli un conto è essere John Elkan tant'è vero che tu nel libro dici anche che lui apprezza chi lo definisce Agnell Khan proprio perché comunque richiama un po' il cognome così importante del nonno ecco qui c'è appunto una situazione che si viene a creare talmente anomala alla quale anche in quel caso si oppone Margherita la madre perché c'è un passaggio diciamo tecnico per cui per dare il cognome a tua nipote devi dimostrare che ci sono tutta una serie di cose quindi lei inorridisce e si oppone mentre il padre anche questo va detto Elkan si era subito dimostrato tranquillamente disponibile sarebbe servito anche il suo di consenso quando in Italia si può affiliare non stiamo parlando di adozione l'affiliare è un'altra cosa i due genitori sono vivi della persona che si vuole affiliare e dopo aver ottenuto il permesso dal padre e dalla madre si può dare il proprio cognome e quindi fare entrare nella serie di Italia quindi pensate che cosa avrebbe attenzione Edoardo l'altro figlio era vivo ancora era un affronto gigantesco pensate cosa significherebbe oggi se il capo della Fiat si chiamasse John Jacob così si capisce anche a quale religione appartiene John Jacob Agnelli sognerebbe diverso perché il cognome Agnelli è in via di estinzione sono degli animali che stanno scomparendo e nessuno li tutela il ramo di Gianni Agnelli oggi oggi conta solo su tre persone due sorelle 95 e 96 anni e la figlia Margherita quindi tre soli c'è poi il ramo quindi figli maschili non ce ne sono perché gli altri si chiamano o Elkan o De Palen il nome del secondo marito poi ci sono c'è il ramo di Umberto Agnelli il fratello di Gianni il ramo di Umberto Agnelli comprende finalmente un maschio Andrea che è l'ex presidente della Juventus della Juventus il quale ha una sorella che si chiama Anna Agnelli la madre si chiama Caraccio la lasciamo fuori quindi nel ramo lì ce ne sono due e poi ci sono i figli di questi due Agnelli che sono i quattro figli di Andrea Agnelli due avuti da Emma Winter la prima moglie e due avuti dalla moglie attuale la Turca la famosa Turca quindi sono quattro piccoli Agnelli più c'è Anna Agnelli che ha una figlia che si chiama Luna che si chiama Agnelli perché il padre è stato fatto con la fecondazione artificiale quindi c'è un Agnelli maschio Andrea che si è tagliato fuori da solo e c'è un suo figlio maschio perché le altre sono tutte femmine quindi dice Giacomo Dai Agnelli quindi gli Agnelli rimasti sono una di 96 anni del ramo di Gianni una di 95 del ramo di Gianni Margherita figlia di Gianni Agnelli Andrea Agnelli e suo figlio Giacomo Dai vedete che il panorama è tremendo e pensare appunto rifocalizzando un attimo anche la figura del figlio di Agnelli Edoardo quando l'avvocato inizia questa procedura per l'affiliazione dicevamo appunto prima che Edoardo Agnelli era ancora vivo e quindi anche lui in quel momento non aveva buoni rapporti con il padre erano sempre stati rapporti molto complicati fra di loro ma era come dire l'ufficializzazione del fatto che il padre lo considerasse al di fuori di tutto che non fosse suo figlio quindi pensate anche la situazione che si viene a creare e anche Edoardo prova diciamo a dare battaglia nel suo finché è rimasto vivo perché si rende conto che era iniziata diciamo era l'inizio della sua fine in quanto potenziale poi per carità il carattere le fragilità poi l'umanità ognuno di noi ha le sue difficoltà la droga che ne facevano tu dici assurdo di come però sia Edoardo che Margherita perché tu lo dici anche di Margherita potessero ipotizzare di poter diventare loro gli eredi dell'avvocato quando i famosi risceglie li definivano una una casalinga e l'altro un drogato quindi era come dire si erano un po' però c'è la legge la legge prevede che il figlio anche se è drogato anche se è borderline e la figlia e la vedova prevalgano nell'asse ereditario quindi la presenza di Edoardo era ma Edoardo io non dico che lo giustifico quelle tre o quattro volte in cui l'ho incontrato e ci incontravamo spesso all'hotel Elefante di Argentario mi ha confessato dopo i primi due o tre incontri quali erano le sue grandi amarezze lui non sopportava che suo padre lo umiliasse lui attenzione era molto rispettoso di suo padre lo ammirava la sua potenza la sua forza il suo carisma il suo mito ma non sopportava che suo padre andasse in luoghi dove gli sarebbe piaciuto come figlio essere vicino a suo padre alla tribuna ad onore dello stadio per le partite a Juventus sui moli dei porti più prestigiosi del mondo per le regate di Coppa America ai box della Ferrari nei Gran Premi di Formula 1 si presentasse con un altro che nel corso degli anni nell'immaginario popolare era diventato il figlio dell'avvocato Agnelli cioè Luca di Montezemolo che non è il figlio dell'avvocato Agnelli ed è una vergogna che non lo abbia mai smentito ufficialmente perché se tu non smentisci una cosa del genere crei nell'immaginario collettivo il figlio vero dell'avvocato e in questo modo senza smentirlo offendi quattro persone se fai credere di essere il figlio dell'avvocato che non è tuo padre offendi tua madre giusto? offendi tuo padre quello vero offendi donna Marella no? è vero? e offendi i due figli veri dell'avvocato non lasciamo perdere chiudiamo la parentesi ma Edoardo disse mio padre mi umilia con questa presenza accanto a lui perché non dobbiamo dimenticarci che Montezemolo è stato cacciato dalla Fiat ai tempi di Romiti Romiti lo ha raccontato in un paio di libri perché Luca di Montezemolo ha patteggiato due volte con i giudici della procura di Torino due casi di tangenti perché si faceva pagare 40 milioni di Lire c'erano ancora di Lire allora per far incontrare a un paio di imprenditori del partito socialista l'avvocato Agnelli quindi se voi chiedevate un appuntamento con l'avvocato Agnelli dovevate passare attraverso Montezemolo diciamo la persona lui più vicino poi c'era una segretaria leggendaria ma Montezemolo ha confermato quello che l'imprenditore socialista aveva detto ai giudici che era una ricerca di nomi importanti da mettere nei guai e ha patteggiato la pena Romiti lo fece mandare in esilio diciamo così alla Cinzano che faceva parte del gruppo Agnelli quello dello spumante Cinzano fino a che poi le cose cambiarono eccetera quindi Edoardo detestava questa sorta di manifesta predilezione del padre nei confronti non del proprio figlio Edoardo non si è mai tolto dalla mente una cosa che gli accade quando aveva otto anni quando aveva otto anni le partite di calcio la domenica cominciavano alle due e mezza del pomeriggio una domenica il padre dice ai domestici alle domestiche non alla moglie non a Marella perché è molto difficile essere figli e figlia di Gianni Agnelli e Marella Agnelli così come è difficile per Gianni e Marella Agnelli fare i genitori quando ho chiesto mi fate vedere alcune foto un album di famiglia noi non abbiamo un album di famiglia non abbiamo mai avuto la gioia di correre incontro al nostro papà quando tornava dal lavoro alla sera cioè noi dobbiamo metterci nei panni di persone che non hanno avuto noi anche se non abbiamo tutti i loro soldi questo tipo di rapporto e di considerazioni ma Edoardo e Margherita fino all'ultimo sono stati umiliati dal padre pensate che ogni anno che ogni anno i due figli dovevano andare da Gianluigi Gabetti che era colui che era stato delegato dall'avvocato Agnelli a occuparsi del caso a discutere la loro paghetta cioè il budget annuale e pensate i due figli di Gianni e Agnelli che si presentano a uno a uno da questo dipendente loro anche perché erano i figli del padrone e discutono e quello gli cancella davanti a questo foglio che loro gli avevano dato con le spese previste per l'anno prossimo no signor Agnelli non facciamo queste nuove 3.000 piante di kiwi perché ne avevamo già piantate 1.000 l'anno scorso no non può comprare questi 3 purosangue perché ne ha già comprati 5 l'anno scorso no non può fare questi lavori nel parco perché li ha già fatti l'anno scorso Edoardo addirittura no la tinteggiatura della cucina è avvenuta due anni fa quindi cerchi di essere più pulito in casa vi rendete conto cosa significa per un figlio anziché parlare con il padre con l'avvocato mediava la pagina è chiaro che scherziamo e poi è chiaro che quando muore la figlia tira fuori i lunghi coltelli e l'altro figliolo non c'era più nella ricostruzione delle cause della sua morte io parlo dell'unica cosa certa la sua morte non parlo né di suicidio né è stato suicidato è stato ucciso io parlo della sua morte dell'autopsia che non è stata fatta delle cose strane che nell'inchiesta chiusa dopo dieci giorni sono state fatte ad esempio il rapporto della polizia scientifica che dice che all'interno dell'auto lassù sul ponte dove poi secondo la ricostruzione si sarebbe lanciato nel vuoto per 78 metri senza sfracellarsi perché aveva ancora addosso gli occhiali le bretelle non si sono staccate non aveva delle fratture così evidenti ma soprattutto non è avvenuta la cosa che avviene stranamente in ogni tipo di incidente la prima cosa che saltano via sono le scarpe se io vengo investito qui quando esco da una macchina rimango senza scarpe non si sa per quale tipo di cosa non so ci sarà un rattrappimento dei muscoli le scarpe e i piedi ma si trattava di mocassini quindi ma ancora non le scarpe con le stringhe con gli scarponi da montagna quindi il rapporto della polizia scientifica che dice all'interno e all'esterno dell'auto non c'è nessuna forma di impronta digitale nessuna forma di impronta digitale come è possibile lui non indossava i guanti come è possibile che sul volante non ci fosse su quei telefonini che allora c'erano quelli più grandi da automobili non c'erano le impronte sulla leva del cambio non c'erano le impronte sulla maniglia esterna non c'erano le impronte digitali cioè grande criminalità può pulire perfettamente una e adesso che Iddu è morto perché Iddu è morto da due giorni Iddu il ponte sullo stretto di Matteo Messina Denaro si sarebbe chiamato il ponte sullo stretto di Messina no sullo stretto di Matteo Messina Denaro Iddu è morto da tre giorni non l'hanno detto perché i giornali così non si sarebbero trovati di fronte al dubbio di dare meno spazio a un altro illustre che è mancato e cui oggi il Corriere come se si trattasse dello scoppio della terza Comunità Mondiale ha dedicato dieci pagine dieci una due proviamo a contare fino a dieci avete mai provato a contare quanto è lungo un minuto di silenzio io quando entrai in Rai e dovete passare dalla macchina da scrivere alla telecamera quindi un servizio montato gli dissi ma quanto tempo deve durare il mio servizio cinquantotto secondi al massimo un minuto ma impossibile allora il mio capo mi fece sedere e mi disse adesso per un minuto non parliamo vedrà quanto è lungo un minuto e adesso mi verrebbe voglia di fare questa prova con voi la faccio anche se siamo in collegamento streaming allora facciamo da questo momento mi fermo dopo dodici secondi perché mi sono accorto che non mi funziona l'ancetta dei secondi comunque va bene comunque va bene provate a farlo a casa per dire che è vero è un tempo quando vostra moglie e vostro marito parla troppo a lungo e gli dice senti vediamo quanto è lungo un minuto di silenzio bene ecco non so dove eravamo rimasti ma va bene lo stesso volevo riprendere un attimo il filo del ragionamento su questa inchiesta che viene viene aperta dopo che Margherita Agnelli porta all'attenzione del tribunale gli affari di famiglia e chiede l'intervento per denunciare i reati ecco lì comincia diciamo ancora un ulteriore elemento che ancora oggi rimane sostanzialmente irrisolto di lavare i panni in arno esatto invece esatto di lavare i panni in arno allora e diciamo e qui ci infilo un tratto biografico quando è morto l'avvocato Agnelli 23 gennaio del 2003 quindi vent'anni fa io ho pensato c'è lo spazio per scrivere un libro sull'avvocato Agnelli risposta no perché ne erano stati scritti a bizzef pensate che c'è stato un famoso scrittore emiliano che è scomparso non ne facciamo il nome che addirittura ci ha deliziato con cento cartelle datilo scritte per spiegarci dal punto di vista antropologico sociologico pedagogico tutti i gogici che ci volete aggiungere per due problemi fondamentali per cui sono convinto che voi non dormite ancora la notte ci ha spiegato questo grande scrittore in cento pagine per quale ragione l'avvocato Agnelli portava l'orologio sopra il polsino della camicia e portava la cravatta fuori dal pullover so cose che io non ci dormo la notte poi ci sono arrivato piano piano vivendo vicino a Genova e dice ma portava così come a Genova non consumano il polsino oggi non esistono più le camicie col polsino di ricambio e il colletto di ricambio se andate da un camicia fuori di qua come si permette lei di chiedermi una camicia con il polsino di ricambio eccetera allora ho detto non si può scrivere un libro sull'avvocato Agnelli perché perché sono tutti già stati scritti mitologici geografici adulatori il più bravo il più bello il più scopatore le ragazze più belle le donne più belle del mondo pim pum pim pum ha detto bisognerebbe scrivere un libro sui lati oscuri sugli scheletri nell'armadio perché dietro a una grande fortuna ha detto non ride balzac c'è sempre un delitto più delitti e quindi sono stato bravo sono stato bravo fino al 2007 perché quattro anni dopo la morte di suo padre Margherita Agnelli inopinatamente e sorprendentemente decide di sciacquare i panni sporchi in arno e come lo fa? Fa una causa al tribunale civile di Torino contro gli amministratori del patrimonio di suo padre cioè Gianluigi Gabetti un grande finanziere torinese Franzo Grande Stevens avvocato che si è aggiunto Stevens nel cognome perché il suo cognome è Franzo per far credere che cosa? Che era parente del famoso colonnello Stevens quello di Radio Londra che lanciava i messaggi ai partigiani sul lancio delle armi eccetera e terzo personaggio citato da Margherita Siegfried Marron un finanziere svizzero che era il titolare del family office di Zurigo dell'avvocato Agnelli cioè l'uomo che doveva moltiplicare ogni giorno i pani e i pesci quindi quando noi andiamo a portarli in Svizzera non ci chiamano mai dicendo guardi a dare una bella notizia i suoi denari sono stati moltiplicati per cento con i grandi investimenti che io ho fatto ma ci chiamano solo per dirci che siamo in rosso e quindi di andare a tappare il buco bene Margherita Agnelli li denuncia li denuncia perché vuole il rendiconto dei beni di suo padre dice che se non i suoi amministratori possono darmelo a quel punto mi sveglio anch'io e dico se è vero che un tribunale non è un bar quindi non si portano delle chiacchiere si portano dei documenti delle prove delle testimonianze degli atti degli statuti delle copie di assegni se riesco a trovare un canale di comunicazione con la caccelleria del tribunale o con gli ambienti degli avvocati del tribunale e metto le mani sui documenti e quindi posso scrivere dei libri documentati perché non si parla di noccioline nei miei libri si parla di sostanza di polpa come la chiamate qui ciccia in Toscana ecco quindi ciccia che gronda sangue ahimè allora che cosa succede succede che trovo questi canali e riesco a scrivere il primo libro i lupi e gli agnelli che costa a Marella Agnelli 90 milioni di euro di tasse arretrate perché l'agenzia delle entrate si sveglia e sulla base dei documenti che io pubblico anche se bastava andare in tribunale a farseli dare scopre che l'attuale presidente della Juventus il commercialista Ferrero vedete che tu se tien tutto torna aveva dimenticato di fare una cosa una cosa perché io non me la vedo donna Marella che come noi con la matita qua e la gomma sulla lampadina al buio compiliamo il modello unico questo libro l'editore mi sparerà non va letto nel periodo delle presentazioni della denuncia dei redditi quindi non va letto a maggio e non va letto a novembre quando c'è da pagare l'acconto per il resto potete oppure lo leggete vi incazzate e poi andate avanti per pagare le vostre tassi la seconda che hai detto allora che cosa fa il commercialista Ferrero visto che è lui che prepara da sempre detto che lo chiamano il contabile come nel film con Sean Connery e ve lo ricordate Robert De Niro un grande film con la scala della Central Station a New York beh che cosa fa c'è il quadro R.W. nella denuncia dei redditi R.W. doppio sono beni posseduti all'estero e redditi derivanti da questi beni posseduti all'estero il commercialista Ferrero sbarra la casella zero e lo sbarra due volte la prima nella dichiarazione dei redditi del 2003 l'avvocato Agnelli muore a gennaio quindi a maggio devi fare la denuncia dei redditi dell'anno prima poi dato che è morto a gennaio l'anno dopo devi fare anche la denuncia dei redditi per quel gennaio per quei giorni di gennaio che lui ha fatto sbarra anche lì la casella il commercialista Ferrero e si era dimenticato che c'era stata una spartizione di un miliardo e passa a Ginevra redditi prodotti all'estero beni posseduti all'estero ecco allora Margherita presenta questa quintalata di documenti in tribunale io ho dovuto comprarmi un monolocale per mettere tutti questi documenti se la mia moglie mi sparava e allora ecco che nascono non uno non due non tre libri perché qui la cosa va avanti i processi continuano Margherita vuole annullare quell'accordo del 2004 vuole annullare i testamenti della madre poi vedremo perché e quindi c'ha sempre il coltello tra i denti e suo figlio non mola niente non mola niente l'altro giorno i finanzieri italiani con un'arrogatoria ordinata da Milano e accettata da Chiasso sono andati in un cavò a cercare sei quadri di quei quadri che vi dicevo di quelle centinaia hanno aperto il cavò dovevano eserci dei quadri sottrati a Margherita era vuoto il cavò hanno guardato però le telecamere della società di sorveglianza e hanno visto che due giorni prima era stato cambiato dal cavò 125 al cavò numero 19 quindi qualcuno aveva informato che stavano arrivando i finanzieri italiani e ha spostato questi quadri però non puoi andare sull'altro cavò devi rifare tutta l'arrogatoria affinché ti diano il permesso di perquisire e controllare il cavò quello giusto nel frattempo però non puoi più svuotarlo perché ci sono le sorveglianze e non si può più quindi continua la guerra e come continua la vecchia quando è morta febbraio 2019 ha lasciato 4 miliardi e 800 milioni 4 miliardi e 800 milioni e a chi li ha lasciati John Lapo e Ginevra Margherita dice now now perché lei risiedeva in Svizzera ma era una residenza fasulla quella di mia madre mia madre era una cittadina italiana e gli investigatori hanno raccolto le prove che viveva più in Italia che in Svizzera e quindi secondo la legge italiana il diritto successore italiano la sua eredità va regolata dalle leggi italiane in cui la figlia se ti è simpatica antipatica se ti detesta se la odi se la vuoi accoltellare non c'entra ha diritto al 50% e secondo voi questi 4,8 miliardi che sono toccati a John Lapo e Ginevra ne daranno 2 miliardi e 4 alla madre ma non gli passa manca pa non gli passa manca pa ve lo vedete 4 miliardi e 8 quanto sono diviso 3 attualmente si sono presi 800 no di più 3 1 miliardo e 6 si sono presi 1 miliardo e 6 ve lo vedete Lapo che rinuncia a 800 di questi milioni ve lo vedete John che rinuncia a 800 di questi milioni ve la vedete Ginevra che rinuncia a 800 di questi milioni e ve la vedete invece Margherita che cosa è disposta a fare pur di avere questi 2 miliardi e 4 che ritiene siano per metà suoi pensate che gli investigatori che lei ha scatenato pur di dimostrare che la madre donna Marella viveva a Lawenen in uno chalet vicino a Kstad soltanto 10 giorni all'anno quindi in Svizzera ci stava solo 10 giorni all'anno per le ferie estive combinazione proprio nei giorni in cui ha fatto i tre testamenti hanno portato una prova regina e l'hanno consegnata al tribunale di Torino dove si svolge questa casa sono andati alla farmacia l'unica farmacia di Lawenen e si sono accorti che nei giorni di agosto in cui donna Marella risiedeva in Svizzera il fatturato della farmacia saliva di molto perché Marella per le sue cure contro l'Alzheimer e il morbo di Parkinson aveva bisogno di costosissime medicine che costavano un sacco e quindi nei tre anni ad agosto quando c'era Marella il fatturato della farmacia saliva e poi riscendeva e dice come mai interrogati i farmacisti portate le prove ecco la prova però è stata è una prova documentaria importante cioè io mi metto nei panni dell'investigatore che studia questa cosa della farmacia è stato brevissimo perché si è incazzato perché quando andava a intervistare l'ex badanti l'ex medico l'ex infermiera eccetera trovava dei muri di silenzio perché diceva no guardi io ho firmato una clausola di riservatezza mi hanno dato la buona uscita e da chi ha firmato John Elkann John Elkann firmava clausola di riservatezza go go senti a proposito di riservatezza io credo che un focus lo dobbiamo fare su questa società semplice la dicembre che è la cassaforte della famiglia Agnelli e che ha una storia incredibile che tu scopri anche insomma in maniera un po' complessa anche per cercare poi dei documenti che comprovassero perché nel nostro paese le società da codice civile devono essere iscritte nel registro delle imprese questa società fino a un determinato punto poi ci racconta Gigi come ha fatto per la legge insomma per l'Italia non esisteva dico bene era sconosciuta di più cioè esisteva ma nessuno sapeva che lo era poi diciamo anche a chi erano destinate le quote perché anche quello è un altro elemento chiave allora nel 2007 quando dopo la denuncia di Margherita comincio a lavorare al primo libro mi accorgo ripetutamente che viene citata questa società semplice dicembre mi metto a cercare delle tracce di questa società semplice perché dico se è così importante la società semplice dicembre è la cassaforte che sta in cima all'impero è la cassaforte che controlla le due partecipazioni maggiori il 65% di Exor che produce dividendi paurosi ogni anno e il 90% della Giovanni Agnelli e C che è la società che raggruppa tutti i rami dell'impero allora se la dicembre ha questo ruolo gigantesco perché è stata fatta una società semplice la società semplice è una società che viene fatta in genere dai pescatori in Liguria uno che ha una barca esce a catturare con le reti pesci e li vende il giorno dopo alle pescherie e dagli agricoltori in Piemonte per non presentare il bilancio l'unica società che consente di non presentare il bilancio ascoltate questo questa cosa è da sottolineare non è obbligata a presentare il bilancio quindi tu non sai quanto incassa ogni anno e continuo 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 registro delle imprese scrivo alla camera di commercio di Torino che deve tenere il registro delle imprese e mi rispondono dicendo prima che è sconosciuta poi visto la mia insistenza finalmente mi rispondono e mi mandano gli atti di questa società che risulta composta da cinque persone di cui due defunte composte da Gianni Agnelli da Umberto Agnelli da Marella Agnelli da Gianluigi Gabetti e da Cesare Romiti quindi due erano già morti Gianni e Umberto Agnelli Romiti era fuori dalla Fiat da anni ma era fuori da questa società del 1984 chiedo quali sono i soci attuali non mi rispondono e quindi tolto Gianni Agnelli e tolto Umberto Agnelli chiedo che vengano aggiornati gli elenchi perché ci sono due morti sapete cosa mi rispondono da Torino non ci ha fornito prove della morte delle due persone da lei citate allora ho fatto un pacco con DHL e gli ho mandato 40 chili di ritagli di stampa che parlavano della morte di Gianni Agnelli funerali le cose dico volete le prove eccole penso che a Torino dovreste saperlo se sono morti questi due vabbè allora rimangono in tre e qui qui viene fuori il bello perché a questo punto mi rivolgo al tribunale delle imprese dovete sapere che in ogni distretto giudiziario esiste anche il giudice delle imprese mi rivolgo a lui segnalando che la società a dicembre risulta avere tre soci una di 95 anni Marella Caracciolo di Castagnetto Gabetti 94 anni Romiti che non c'entrava più niente ma era lì 98 anni dico bravi a Torino un bel gerontocomio ma il bello è che questa società che ogni anno incassava utili giganteschi valeva secondo queste scritture ufficiali della Camera di Commercio Donna Marella c'erano ancora i prezzi in lire perché era prima del 2001 quando è introdotto l'euro Donna Marella aveva poverina 10 quote da 1000 lire ciascuna quindi aveva una partecipazione di 10.000 lire Gianluigi Cabetti poverino aveva una quota solo da 1000 lire ciascuna 1000 lire e Cesare Romiti anche se non c'entrava più niente aveva anche lui una quota da 1000 lire totale 10 più 11 12.000 lire in euro era 5,62 euro quindi guardatevi nelle tasche se avete un biglietto da 10 voi siete padroni della dicembre una gigantesca vi ricordo che parliamo della cassaforte ecco stiamo parlando della cassaforte stiamo parlando di una roba in cui io vado avanti muore poi Donna Marella muore Gabetti Romiti muore allora scrivo di nuovo perché devo aggiornare il libro perché devo consegnarlo ad Alessandro Bacci per la sua edizione di Agnele Coltelli gli devo dare alto del suo coraggio editoriale coraggio editoriale lui non ha pensato questi sono i più potenti d'Italia questi me la faranno pagare questi qua no no lui dice il contenuto è valido siamo sicuri dal punto di vista legale è documentato ecco qua quindi coraggio adesso tu ti parli Vannacci Vannacci l'ha trovato un editore tutto questo mondo di destra dopo l'ha trovato un editore lui no adesso l'ha trovato ma perché gliel'hanno trovato a Rimini eh ha dovuto fare il self publishing libro che pubblicate da soli con Amazon no self publishing dove potete scegliere i caratteri di stampa la tipo di carta la copertina tutte queste cose qua ma attenti allora sulla dicembre mi incazzo perché sono morti tutti e tre di chi è questa dicembre e dato che continuano a non rispondermi abbiamo sollecitato con la raccomandata i proprietari della dicembre ma ditemi chi e loro mi danno l'ultimo indirizzo di Romiti gli hanno scritto a Romiti dieci giorni prima che morisse perché risultava l'unico in vita non è stato possibile notificare la nostra richiesta quindi non abbiamo notizia non avete notizia le cercate come faccio io voi siete pagati per tenere aggiornato il numero del registro delle imprese allora che cosa succede? succede che faccio un ragionamento di altro tipo FCA e la Ferrari sono state quotate che fanno parte anche loro della dicembre perché la dicembre è proprietaria anche della FCA e della Ferrari della Juventus di tutte le società della Real Estate delle assicurazioni allora dico se si sono quotati alla borsa di New York hanno presentato questo documento da ridere con tre morti che governano ho scritto alla Security Exchange Commission avrei dovuto scrivere alla Consom ma che di che ho tempo perso la Security Exchange Commission leggo i documenti e gli dico vi chiedo di aprire un'investigazione che probabilmente voi non siete siete all'oscuro di questa vicenda vorrei sapere se per quotare per chiedere la quotazione in borsa la borsa di New York della Ferrari NV che nel frattempo aveva sede in Olanda e della FCA Fiat Chrysler Automobiles c'è o non c'è questo documento della dicembre che è e poi da figlio di Mignotta l'ho mandata per conoscenza quella lettera alle dodici maggiori società automobilistiche del mondo la Toyota la General Motors la Chevrolet che mi hanno risposto ringraziando della segnalazione perché perché volevo che loro vigilassero sul lavoro della Security Exchange Commission e non gli dessero fiato succede il miracolo succede il miracolo perché dopo quell'esposto John Elkan si sveglia dopo 22 anni si sveglia perché lui è entrato nella dicembre nel 2000 nel 2022 a luglio si sveglia e manda tutti i documenti sulla dicembre alla Camera di Commercio di Torino dove anche loro si svegliano è arrivato sto pacco di documenti solo che non ha mandato le copie autenticate dal nottaio ma ha mandato l'atto di donazione che Donna Marella aveva fatto perché Donna Marella dopo aver firmato con la figlia e aver preso quelle azioni della dicembre quelle quote della dicembre aveva immediatamente girato quelle quote per il 60% a John per il 20% a Lapo e per il 20% a Ginevra e la figlia si è incazzata ancora di più ecco pensate in Italia bisogna rivolgersi a New York per avere un'informazione su una società italiana bisogna rivolgersi a New York allora lì si spaventano si spaventano perché ne va della loro reputazione e io passo per un piantagrane sono contenti eh sono contenti questi qui che io faccio questi libri no cazzo sono raggianti sono raggianti sono no che li ho sputanati con 12 lettere a Mary Barra amministratore delegato CEO dei General Motors che aveva litigato perché questi avevano corrotto i sindacati in America dell'automobile sarà contento il signor Toyota i Toyota perché si chiama così il presidente e proprietario della più grande casa automobilistica del mondo saranno contenti i tedeschi eh questi qua avete visto questi qua eh senti ti faccio una domanda adesso ma che cosa deve fare un giornalista deve essere curioso o deve essere apecoronato e chiedere un'automobile in regalo no esatto però ti faccio questa domanda tu l'hai mai incontrato John Elkan dopo questa ti è mai capitato in circostanze ufficiali o hai mai ricevuto se ce lo vuoi dire in maniera diretta o indiretta qualche come dire segnale così di intolleranza o di nervosismo da parte dunque ci sono due cose curiose la prima John Elkan io non l'ho mai incontrato anche se ho chiesto più volte delle interviste sono agli atti perché poi quando questi qua fanno le vergi dopo non siamo neanche stati interpellati come non avete risposto non avete risposto sulla mail personale mica su quell'aziendale che poi sparisce anche su quell'azienda una volta in una di queste cerimonie che ci sono questi aperitivi prima del salone del mobile in quella settimana a Milano che è diventata più importante la settimana della moda in una delle prime edizioni sono a uno di questi cocktail e vedo dall'altra parte della sala l'Apoelkan col bicchiere in mano ci guardiamo lui mi viene incontro io sono poso il bicchiere per essere pronto perché dico qua mi arriva qualche lui mi dice lei è Moncalvo io dico sì senta la volevo ringraziare ho detto cazzo questo mi sta a pieno la volevo ringraziare perché io grazie ai suoi libri sono venuto a sapere cose della mia famiglia che nessuno vi avrebbe mai raccontato e che io non avrei mai conosciuto mi ha dato la mano e è andato ma alla vigilia dell'uscita del primo libro Yash Gavronsky si fa vivo dopo tempo e mi dice ciao come stai qui là mi hanno detto che stai scrivendo questo libro sugli agnelli i lupi e gli agnelli pa 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 ho visto che qui è una zona da lupi tra l'altro occhio perché se ci sono i lupi ci sono anche gli agnelli quindi vorrei che mangiassero i lupi ti posso dire che da queste parti comunque la famiglia Agnelli in maniera riservata non esattamente in questo posto ma veniva veniva spesso non hanno portato via niente pioppi e abetti allora Yash Gavronsky mi chiama saputo sta cosa senti vorrebbe parlartene Sandro Casazza che oltre a essere il presidente allora del Museo del Cinema di Torino nella Molle Antonelliana era anche il portavoce di John dico sì fammi pure chiamare fammi chiamare perché non bisogna mai lasciare tracce perché poi dicono questo è venuto a cercarci questo mi dice ah sì bene ma perché non ci vediamo dai dopo tanti anni lui lavorava la stampa io lavoravo in altri giornali a Corriere della Sera ma sì perché no io non abituatorio ma no vengo io a trovarti ci vediamo a metà strada conosco dei bei ristoranti in provincia di Asti in campagna perché no ci fissiamo un appuntamento 48 ore prima a telefono e non vado non vado perché non bisogna mai cadere in queste trappole potete essere registrati potete essere filmati questo incontro se anche non sortiva alcun effetto poteva essere giocato dalla controparte dicendo questo qui ha incontrato un nostro coso cioè questi sono dei gente che se va contro la propria madre figuratevi se non va contro un giornalista perché vi dicevo ero incuriosito dalla voglia di scrivere un libro su Agnelli e non avevo il materiale finché non perché pensate l'autocensura che c'è in Italia il freno a mano tirato dei direttori dei giornali allora ve lo ricorderete sicuramente quel bellissimo film con Jodie Foster e Anthony Hopkins dove c'è per la prima volta non diciamo il nome perché ci arriviamo dove c'è Hannibal e Hannibal ve lo ricordate no? rapiscono la figlia di una senatrice pa 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 ma Jodie Foster giovane agente dell'FBI va in carcere a trovare questo genio del male per cercare di penetrare nella sua psicologia ma è Anthony Hopkins che penetra nella psicologia di Jodie Foster che gli racconta mio padre è stato ucciso lavorava nella polizia allora io sono stato mandato a casa di uno zio che aveva un allevamento di pecore e quando portava al macello questi agnelli di notte per essere pronto all'apertura del macello la mattina sentivo i belati di questi agnelli disperati che capivano e io non potevo fare nulla per salvarli finché ne portai via uno ma lui ci trovò nel bosco lo uccise davanti ai miei occhi e Anthony Hopkins gli dice fino a che tu non avrai spento dentro la tua memoria il rumore di quei belati e quel senso di colpa non riuscirai a vivere tranquillamente grande film tratto da un grande libro rispetto del diritto d'autore quel libro si chiamava Silence of Lamps tradotto in tutto il mondo Silence of Lamps oppure in Francia Le silence des agneaux in Spagna Lo silenzio de nos corderos de montezemolos in questo caso in Italia unico caso al mondo se ne sono fottuti del diritto d'autore e invece di chiamarsi Il silenzio degli innocenti Silence of Lamps si è chiamato Il silenzio degli agnelli si è chiamato Il silenzio degli innocenti capisco che Innocenti faceva delle macchine più sfigate di quelle della Fiat a parte la Duna capisco che questo non distribuiva la pubblicità che distribuiva la Fiat ma vi rendete conto il produttore del film che certo non riceve la telefonata da Torino ma lui dice ma perché mi devo andare a cercare a Degrane facciamo il silenzio degli innocenti invece del silenzio hanno cambiato il copyright il diritto d'autore l'opera dell'ingegno di un grande scrittore americano ecco allora questi non rispettano gli altri non hanno nessun rispetto altrui quindi non sei andato a quell'appuntamento non sono assolutamente andato a quell'appuntamento volevo venisse alla porta di casa volevo venisse alla porta di casa facciamo hai citato la Poelcan al quale tu dedichi comunque insomma una buona parte di un corposo capitolo poi nelle more del libro scorre sempre insieme alla sorella perché sono le due figure che sostengono comunque l'operato di John per interessi personali ma di fatto sono schierati con lui ebbè quando John prende 100 da 20 a uno 20 all'altra John il più adorato nella storia della famiglia Agnelli gli azionisti delle varie società di Agnelli ricevono ogni anno di dividenti grazie a John e a Marchionne prima che se lo sono dimenticati tutti vedete che non viene neanche ricordato nell'anniversario della morte hanno cambiato regime quando c'era l'assemblea della comandita cioè la società di tutti i parenti l'avvocato leggeva una relazione di due o tre pagine gli dava i dividendi alla fine gli diceva non ci sono domande vero? no ci sono domande perché magari no non ci sono domande vero? perché vi vedo un po' inquieti ma state tranquilli ho terminato adesso potete fare la cosa che desiderate di più passare alla cassa a prendere la busta con i dividendi perché questi andavano a prendere la busta con i dividendi quando però la Fiat comincia ad andare male invece della busta con i dividendi c'è il rischio che debbano aprire il portafoglio lo fanno per uno o due anni fino a che arriva San Marchionne e risolve tutta la problematica e John attenzione John ha avuto una grande botta di culo sono morti tutti gli ostacoli che erano sul suo terreno non per colpa sua ma per muore Giovannino Agnelli il figlio di Umberto quello della piaggia a Pontedere muore Edoardo Agnelli muore Giovanni Agnelli muore l'avvocato Vittorio Chiusano che era il vero avvocato dell'avvocato quello che lo salvò dai guai di Tangentopoli muore Umberto Agnelli muore Sergio Marchionne ecco cassa oltre esserti piovuto dal cielo questa grandinata di denaro c'è anche questo lento cadere dei birilli che si trovano sulla strada con la nonna che prende perché il ragionamento della figlia è semplice mia madre non ha mai lavorato nella vita mia madre non ha mai avuto uno stipendio mia madre ha vissuto di quello che le passava mio padre si vendicava delle corne che gli faceva facendogli spendere miliardi per la cura dei giardini lei aveva proprio la passione dei giardini il giardino di Villar Perrosa il giardino ha speso con ingegneri di giardino e architetti di giardino cifre inarrabili l'avvocato che doveva tacere firmava pagava compresa Gaia Olenti per rifare gli spogliatoi della piscina di Villar Perrosa pensate un po' che viene usata due giorni all'anno veniva usata e sono dimenticato stavi parlando di Gionelka ha avuto questa fortuna che la nonna che foraggiava è continuata a foraggiare quindi ragazzi sono capaci tutti come diceva il professor Ricucci noto accademico dei lincei sono capaci tutti ti chiedo questo all'inizio quando i due risceglie diciamo suggeriscono almeno così sembra di capire dalla lettura del libro all'avvocato di affiliare e quindi in qualche modo di eleggere questo nipote anche se l'avvocato poi non ha mai scritto in nessun testamento che a capo diciamo del gruppo dovesse esserci questo nipote lui si è un po' autoproclamato diciamo anche per tutta questa serie di vicende e di scomparse che tu stavi citando all'inizio quando questi due grandi suggeritori che avevano interessi personali suggeriscono all'avvocato di fare questa operazione perché come dici tu nel libro individuano in John Elkan un giovane che poteva essere come dire manovrato manipolato per alcuni interessi ecco di quel giovane che doveva essere manipolato oggi che cosa abbiamo cioè è effettivamente a seguito o a un certo punto lui stesso ha capito le opportunità e insomma è cambiato o è rimasto nella scia di quel disegno che avevano pensato per lui questi personaggi no i due personaggi attenzione i due personaggi dopo aver subito per anni le umiliazioni dell'avvocato che l'avvocato non è che li trattasse molto bene no è famoso l'aneddoto che racconta Gianluigi Gabetti quando l'avvocato compra il corriere della sera compra il corriere della sera glielo comunica un venerdì lasciando l'ufficio Gabetti lo accompagna gli apre al portiere della macchina l'avvocato si metteva sempre al volante e va avanti 50 metri poi fa retromarcia torna dice ah Gianluigi mi sono dimenticato di dirle una cosa mi sono comprato il corriere della sera cioè glielo dice come se si trattasse vami a prendere il caffè al bar sotto l'angolo questi qui hanno ingoiato cucchiaini di merda e palate di miliardi per anni e hanno detto probabilmente adesso poi il giorno che non ci sei più ci pensiamo noi e quindi loro volevano continuare ad avere il potere che avevano anzi ad aumentarlo se non ci fosse più stato l'avvocato Agnelli che prima o poi doveva morire perché aveva subito due operazioni al cuore aveva subito un'operazione per cancro alla prostata insomma di salute si capiva che e poi raccontiamo cosa succede nella clinica di Monaco l'ultima volta che hanno operato allora che cosa succede succede che loro fanno il calcolo quando questo muore noi corriamo il rischio che se la famiglia è unita e prende il comando ci manda a casa e il nostro potere si riduce a zero se invece all'interno della famiglia creiamo una divisione mettiamo la madre contro la figlia e poi hanno avuto la fortuna che è morto Edoardo se mettiamo la madre contro la figlia e inventiamo una figura figlio maschio il nipote prediletto eccetera e vengono favoriti dalla morte di Giovannino a quel punto abbiamo nelle mani uno di vent'anni che ci ubbidisce gli facciamo fare quello che vogliamo e noi quindi comandiamo più di prima e siamo i nuovi padroni e così succede così succede perché al punto che una delle quote societarie della famosa dicembre o non mi ricordo sì della dicembre finisce addirittura in mano alla figlia alla figlia di grande Stevens di grande Stevens di grande Stevens pensate quando è il momento di far fuori Umberto Agnelli il suo fratello e Romiti che litigavano quindi tra i due fuori tutti e due li fa fuori dalla dicembre l'avvocato sostituisce le due quote con quella di grande Stevens e della figlia di grande Stevens che cosa c'entrava una di ventidue anni c'hai un figlio e una figlia mettici Margherita Edoardo altra umiliazione altra umiliazione ma John è uno degli uomini più ricchi del mondo ha un grande consigliere che è Braggiotti ex della banca commerciale italiana che da Monte Carlo guida i suoi affari e soprattutto da alcuni anni si è affidato a due indiani importantissimi uno che è diventato il presidente di Exor ed ha sostituito un altro indiano perché l'altro indiano che c'era che è rimasto consigliere di John personale per gli affari è stato preso dal presidente americano Joe Biden come suo consulente per i grandi investimenti quindi pensate di chi si avvale e John si sta buttando su tre grandi filoni che sono quelli che secondo lui producono i maggiori profitti ecco perché vuole disfarsi di rami inutili il lusso quindi la moda ha comprato una grande partecipazione in una società cinese che ha una roba tipo 300 milioni di associati sulle piattaforme digitali cioè una roba che ti portano che ordinano via email i vestiti le scarpe ha comprato lo Boutin una grande marca di calzature francesi femminili che hanno famose per l'aerano la suola rossa sotto quindi lusso e moda attenzione tecnologie per la green economy quella lì c'è sempre e la terza cosa che sta facendo è l'health care cioè la tecnologia applicata alle cure mediche ha comprato il 15% della Philips che tutti noi siamo convinti che faccia solo lampadine invece la Philips è la più grande azienda produttrice in Europa e al mondo di robot per eseguire le operazioni interventi chirurgici che è questa la nuova frontiera tema che si intersega con l'intelligenza artificiale lui ha preso solo il 15% perché c'è un problema la Philips è sommersa da cause contro gli amministratori precedenti di class action di pazienti americani che si ritengono danneggiati da operazioni sbagliate a causa del malfunzionamento di questi robot quindi lui ha comprato il 15% per vedere se ci saranno problemi in futuro ma se non ci saranno come probabile lui si prenderà anche la Philips perché è quella la nuova frontiera non più le cliniche di Angelucci a Roma le convenzioni con le regioni ma la fornitura della tecnologia migliore a questi grandi case della sanità privata che avranno firmato le convenzioni con lo Stato e con le regioni per avere i rimborsi delle loro spese senti un breve scenno lo dobbiamo fare a questa storia delle mascherine che forse tutti voi vi ricorderete sia pure così come memoria un po' labile ma fu un caso clamoroso fu un caso è stato un caso di fatto durante la pandemia ce la racconti tu certo dunque voi direte una società che ha portato via tutto in Olanda il governo italiano dovrebbe starci attento prima di molare dei sfinanziamenti invece no durante la pandemia il governo Conte attraverso Arcuri famoso commissario Arcuri altro che banchi a rotelle ha firmato cospicui contratti con la Fiat per la fornitura di mascherine fornitura di mascherine in quel periodo storico disgraziato speriamo che non torni aveva determinato questo che per averle in fretta lo Stato comprava i macchinari li dava alle società che sceglieva per costruire queste mascherine e tralasciava gente che le mascherine le sapeva fare nella Bergamasca nella Bresciana c'erano centinaia di aziende di parafarmaci che faccia le mascherine allora aprono tre linee produttive a Mirafiori Mirafiori è uno stabilimento che ormai da dieci anni lavora diciamo così fa lavorare i tremila dipendenti a turno al massimo venti giorni all'anno per il resto non si capisce quei venti giorni cosa vadano a fare quei dipendenti andranno a scopare per terra perché si saranno formate le regnatele aprono tre linee produttive non per fare delle automobili la famosa autoelettrica no se le fanno in Francia con la Stellantis per produrre le mascherine mascherine che hanno una particolarità anziché lo stringhino o l'elastico hanno una specie di giarretiera tutta arricciata che fa venire le orecchie a sventola erano per i bambini delle scuole elementari molti presidi spinti dai genitori le respingono corre striscia la notizia con quello là simpatico che corre dietro il marino moreno morello quello vestito di bianco quello che insegue e vanno a farle esaminare da laboratori specializzati dove scoprono che la capacità filtrante è molto molto bassa molto inferiore alle norme io quindi i direttori di dati ci presidi rifiutano insieme ai genitori queste mascherine che vengono rimandate secondo voi è stata pagata questa commessa è stata protestata è stata pagata io mi domando dove sono finite queste mascherine perché nel contratto Arcuri si era dimenticato di scrivere che in caso di malfunzionamento diciamo così tu dovevi ritirare le mascherine e non le hanno ritirate ma soprattutto le dovevi distruggere dovevi smaltire che era un costo ci rompono le scatole la raccolta differenziata dove sono finiti quei milioni di mascherine il governo Conte ne ha fatto un altro questa volta senza Arcuri quando hanno distribuito i soldi per i danni del covid alla Fiat al signor Elkan hanno dato 6 miliardi per i danni subiti durante il periodo 6 miliardi in Olanda questo è andato in Olanda a creare i posti di lavoro in Olanda e sui suoi giornali quando si è trasferito in Olanda ha fatto fare un'intervista con quello che forniva il catering alle assemblee della Fiat che era disperato perché adesso come fa di andare in Olanda a fornire il catering quindi anche mica per dire la Fiat no l'artigianato piemontese e a Torino tutti a bere Senti un passaggio solo lo dobbiamo fare anche sulla Juventus solo chiudiamo con questa con la Juventus annunciamo l'uscita del prossimo libro con Vallecchi Juventus segreta lo troverete a partire dal novembre quindi regalatelo e regalatevelo per Natale sia che siate juventini o sia che non siate juventini e volete sapere come hanno fatto a portare via Chiesa Bernardeschi e Blaovic senza averci soldi ma questo ci penserà commesso la Juventus la Juventus è stato un modo spietato di John Elkan per far fuori il cugino spietato perché perché tu prima di crocifiggere non tuo cugino ma un tuo dirigente un presidente di una tua società aspetti la sentenza finale se no se lo crocifiggi prima ancora che venga processato non è una cosa è come se tu dicessi a quei giudici peraltro che probabilmente hanno ragione John lo ha umiliato 4 o 5 operazioni la prima come prima cosa ha messo ha richiamato la Juventus quando ancora c'era Andrea Agnelli Francesco Calvo chi è Francesco Calvo? Francesco Calvo è il marito della Turca la Turca è quella di cui Andrea Agnelli si invaghì era la moglie del suo migliore amico Francesco Calvo e in un parco nell'isola di Salina durante un ricevimento di nozze se la incontronò contro un albero e vennero sorpresi da Emma Winter la moglie inglese che da quel momento si è scatenata quindi ha rimesso al suo posto John Elkan colui cui aveva portato la moglie pensate che Andrea Agnelli è tale andatevi a vedere su internet i suoi discorsi alla fine dell'esempio che quando parla lui dice di avere 5 figli invece ne ha 4 anche la figlia di Roberto Calvo li hanno portato via andate a vedere i necrologi che ci sono stati in tre occasioni dove lui mette di avere 5 figli oh ma ce n'è i 4 a matematica e lo stato civile no anche la figlia gli ha portato via quello là quindi prima umiliazione seconda umiliazione annuncia subito una cosa John Elkan noi non ricapitalizzeremo più non è vero perché lo faranno tra poco i debiti da Juventus come dire vai terzo ha scritto una lettera all'UEFA vi ricordate una delle cause della morte chiamiamola così professionale di Andrea Agnelli è l'idea della superlega il calcio dei ricchi John ha scritto noi ci ritiriamo dalla superlega si è dimenticato di dire che deve pagare 3 milioni ogni anno perché fa parte di una società pro quota quarto Amesho Allegri di nuovo ha riconfermato con Lupo Rattazzi figlio di Susagnieri che dice ma sei mai vista una società come la Exor che paga un suo manager 14 milioni di euro l'ordi all'anno Allegri prende 14 milioni di euro per altri due anni ma diamo i numeri qua beh l'hanno lasciato lì perché non possono cacciarlo se no gli devono pagare lo stipendio poi ne ha fatto la quinta credo si sia svolta in questa zona perché Andrea Agnelli si è sposato il primo maggio da queste parti in Alto Tevere in Alto Tevere dove c'è Vissanni dove c'è in Alto Tevere è la zona di Umberti dove c'hanno la casa esatto allora si è sposato Andrea con la Turca e John non c'era Lavinia non c'era i tre figli Oceano Noè e Vita Talita non c'erano però due mesi dopo si è sposata la Seredova con Alessandro Nasi e lì c'erano John e Lavinia hanno fatto i testimoni facendo capire là non ci andiamo che c'è la Turca qua invece dove c'è il cugino prediletto anche se è sposata la Seredova la Seredova ve ne racconto una tanto per farvi capire questa famiglia come viene poi innervata e inquinata la Seredova naturalmente ha messo gli occhi su quello più pregiato per vendicarsi di Buffon della famiglia Alessandro Nasi è molto amico di ma soprattutto si è fatta amica la persona chiave della famiglia la moglie di John la principessa Lavinia Borromeo lei è il capostipite femminile cioè la custode della morale familiare quindi lei inorridita che lui abbia portato Andrea abbia portato via la moglie al suo miglior amico che si sia appropriato della figlia che abbia sposato la Turca vedete allo stadio di fatti non erano mai vicine una in una scalina superiore l'altra due scalini allora che cosa succede succede che la Seredova prima di sposarsi si fa un figlio Nasi nasce ma Seredova chiamano mica Maria Giuseppe Donatella Vivien Charlotte Seredova chiama la figlia Vivien Charlotte è detta Vivi allora quando nasce c'è il battesimo arriva la mamma di Alessandro Nasi la signora Remmert così raffinata eccetera e porta una grande scatola lunga con un bel fiocco leggerissimo questa scatola dice Alena ti ho portato una cosa bellissima che dimostra quanto tu sia accettata in famiglia e quanto la piccola Vivi sia importante per tutta la famiglia ti ho portato in prestito naturalmente la vestina che abbiamo messo a tutti i neonati della famiglia quando sono stati battezzati quindi c'era questo vestitone di pizzo lungo i bambini sono lunghi così però questa roba è chilometrica questa scatola la Seredova la apre fa un passo inurridita la richiude e gli dice mami la Seredova adesso la chiama mami la Remmert io ho sempre giurato a me stessa di non mettere vestiti usati ai miei bambini vestiti usati cioè credeva l'avessero preso nel cassonetto giallo della San Vincenzo ho promesso ai miei bambini di non mettere vestiti usati di oh ma questa questa vi rendete conto abito usato secondo non è che puzzasse di tarme perché figuratevi la Remmert come ha quando la Remmert ha telefonato a Lavigna e diceva ma Lavigna la tua amica mi ha deluso qui là cosa ha fatto lei le racconta i vestiti usati Lavigna che la assolve su tutto ma cosa vuoi queste ragazze dell'est sono incorreggibili non riesci proprio adressarle adressarle come fosse un cane eh quante domande le curiosità sono tante e qualcuna complessiva sì intanto grandiosi aiuti di Stato gigantesca evasione connivenze coperture favori eccetera in quale altro paese occidentale sarebbe potuto accadere tutto quello che è successo nel Burundi perché noi ci siamo fermati nell'elenco siamo arrivati a 1,9 poi ce ne sono un altro miliardo che viene rivelato da un funzionario di Morgan Stanley e quindi saliamo a 2,9 più ci sono altri 420 milioni che vengono rivelati dagli avvocati Galassi nuovi avvocati di Margherita e da 2,9 saliamo a 3,3 poi ci sono i 4,8 di Marella 3,3 e quindi arrivavano dal patrimonio del vecchio 3,3 più 4 e 8 sono 8 e 1 e poi e poi che cosa c'è non c'è il cavo di chiasso quando cambiano la cassetta c'è l'oro c'è l'oro del vecchio nonno dell'avvocato anche quello è oro nostro anzi partirei io qui dalla Toscana per andare dall'Umbria per andare a riprendercelo perché è nostro è l'oro che Giovanni Agnelli senior il senatore fatto dal fascismo si faceva pagare per le forniture belliche di due guerre mondiali la prima e la seconda quindi lui non voleva essere pagato in carta neanche dollari marchi no 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 l'ingotto d'oro e secondo i Panama Papers che hanno fatto una ricostruzione di questa vicenda quando hanno portato alla luce lo scandalo dello studio Mossack Fonseca dove c'erano anche tra i vari clienti Marella Agnelli questo oro nel 2021 aveva un valore poi l'oro è cresciuto di 9,2 miliardi altro che finanziari avete capito Margherita perché non molla l'osso quindi 9,2 più quanto eravamo arrivati 7 non mi ricordo 7 quindi siamo 17 paio di finanziari allora questa storia che scoperchia mille malefatte del nostro paese potrebbe diventare un po' la cartina di tornasole di come vanno le cose in Italia non ha avuto e quindi parlo del tuo libro grande spazio sui giornali cioè di queste mille vicende se ne è parlato davvero con righe poche righe beh per una ragione molto semplice che la Fiat per anni anche se non esiste più ha continuato e continua a pagare i giornali e la televisione sotto forma di pubblicità in televisione vedete che gli spot sono merosi sono sulle automobili sui telefonini o gli oggetti di telefonia e sugli oggetti legati all'elettronica dei computer quindi se voi ricevete e se questi fanno il titolo del film Il silenzio degli innocenti vent'anni fa si figure adesso col coraggio che c'è negli editori di giornali ripeto escludiamo la Vallecchi attraverso la persona perché poi le persone che hanno non hanno il coraggio l'autocensura scatta nei qua 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 allora se questi hanno fatto sto lavoro senza chiederlo per il silenzio degli innocenti si figuri qui l'unica è stata striscia la notizia che ha violato la cosa ha violato canali 5 chissà come sono stati sgridati ma questi spendono da noi ogni anno milioni di euro per la pubblicità e voi gli pubblicizzate il libro Agnelli e Coltelli resta però di fatto e forse qui chiudiamo che la diciamo l'azione di Margherita Agnelli non si ferma cioè lei ha tutto l'interesse per andare avanti prima o poi dovrà comunque arrivare a un approdo e prima o poi dovranno parlarne finalmente parliamo di 4 miliardi e 8 no? sì parliamo di 4 miliardi e 8 più la caccia al tesoro più la famosa più i quadri perché adesso sta per esplodere la storia dei quadri quindi signori qui il gruzzolo è molto molto grande pensate cosa è stato sottratto al fisco italiano pensate che cosa è stato fate il raffronto con quello che pagate voi di tasse ogni mese ogni anno pensate qui che cosa è stato sottratto al fisco italiano quindi è questa purtroppo ahimè la realtà giusto Italo possiamo chiudere qui Presidente Marri grazie non so se c'è qualcos'altro ma insomma è una cosa così gigantesca che le curiosità sono innumerevoli sono innumerevoli qualche altro minuto intanto una questione personale sono seguite querele per tutto quello no si è fatto vivo attenzione loro non querellano perché altrimenti in un'aula di tribunale io porto le prove sulla dicembre gli porto le prove e a quel punto l'agenzia delle entrate non può più stare con gli occhi tappati c'è solo uno che ha parlato l'avvocato dei 15 milioni di euro pagati all'estero in nero che ha fatto la vergine ma noi abbiamo pronto una sorpresina per lui sul prossimo libro? no nell'eventuale aula di tribunale che dovesse prendere in considerazione la sua lui ha querelato Margherita e me Margherita per le sue accuse di aver fatto il doppio gioco e me per aver riportato le sue accuse ma io ho semplicemente ripreso le memorie dove Margherita scrive queste cose atti giudiziari che sono ma avremo una carta molto interessante perché noi chiameremo a testimoniare i colleghi dello studio Chiomenti il capo dello studio Chiomenti e gli chiederemo scusi lei in questa circostanza scritta dal suo ex associato Gamna gli ha detto di tenere più calma la sua cliente in maniera che la Fiat tornasse ad avere come cliente lo studio Chiomenti eh? ve lo chiederemo e Gamna si troverà nelle canne perché? perché quando ha dovuto pagare gli indennizi allo studio Chiomenti dove lui non aveva detto che aveva preso i soldi in nero che non aveva messo la parcella e che soprattutto aveva perso la cliente Margherita Agnelli come se lo studio Chiomenti non leggesse i giornali e non avesse letto che Margherita Agnelli da anni aveva cambiato lui lo chiameremo a testimoniare perché e vedremo se risponderà perché quando ha dovuto pagare l'indennizzo allo studio Chiomenti perché non lo licenziassero e non lo cacciassero ma le famose dimissioni concordate ha firmato una clausola di riservatezza però davanti a un giudice di tribunale dovrà rispondere a delle domande e se violerà la clausola di riservatezza lui si troverà a dover pagare una penale fortissima nei confronti dello studio Chiomenti e aveva detto non ne parliamo più di questa cosa firmo l'accordo ah non ne parliamo più hai voluto riaprire il pentolone e adesso ti prendi le tue responsabilità fino in fondo ultima considerazione l'autore Moncalvo ha titubato ha esitato si sente ora un eroe nell'affrontare questo lavoro cosa si aspetta in avanti ho fatto semplicemente il mio lavoro io ho una dotte che tutti i giornalisti credo abbiano la curiosità non mi fermo davanti a un ostacolo se vedo che tutti mi parlano di questa dicembre e non trovo gli atti ufficiali dico io devo mettermi a riparo da grane e quindi devo scoprire che cos'è questa dicembre se no se ne parli in un libro dicendo che la dicembre è il centro di tutti i soldi e il potere e gli intrallazzi mi possono denunciare se invece vado a cercare cosa è questa dicembre da chi ha composta qual è il suo bilancio anche se non lo deve presentare chi sono i suoi soci la mia curiosità viene appagata è una soddisfazione personale diventa capisce la sfida contro questo potere di vigliacchi coltelli quindi loro accoltellano la schiena io però la mia schiena ce l'ho già piena di cicatrici perché non ho avuti parecchi di costoro che nel corso degli anni mi hanno dato delle pugnalate noi le altre le reprimiamo comunque io vi invito a leggere il libro a comprarlo a leggerlo perché soddisfa un sacco di curiosità ne apre molte altre però io dico ecco che è illuminante per certi versi per questo dicevo che lo dovrebbero leggere un po' tutti gli italiani che ripeto nell'immaginario collettivo continuano a conservare giustamente non giustamente non lo so non aspetta a me dirlo comunque quest'immagine così di liaca diciamo anche quasi identificandosi in questo alfiere dell'Italia che era l'avvocato Agnelli la famiglia Agnelli eccetera quando invece poi scopriamo che insomma la realtà in termini di d'azioni anche che gli italiani hanno fatto nei confronti degli Agnelli forse anche ti ringrazio delle tue parole ti ringrazio so che hai letto tutto il libro visto che hai segnato varie parti ma l'Italia va presa così com'è in nessun paese uno che si droga in continuazione che va travestiti che finge un suo rapimento a New York non sarebbe un idolo dei giovani non sarebbe un idolo sarebbe qualcosa di diverso capite quindi questo qua recentemente messo sull'astrico tutti coloro che lavoravano nella sua ditta di occhiali Italian Independent non esiste più lui ci ha rimesso 50 milioni nel corso degli anni e di questa società faceva parte con azioni anche suo fratello John Elkan ma adesso l'ha svenduta per un milione di euro ve li ricordate vendevano gli occhiali a 1.007 euro 1.007 e si capiva che c'era qualcosa che non andava poiché li fissarono il prezzo il prezzo è 1.007 euro pochi giorni dopo che il governo Monti aveva stabilito il tetto al pagamento in contanti non si poteva pagare più di 1.000 euro loro hanno fissato come prezzo 1.007 euro quindi sono forti questi e vuol dire che ci pensa ecco avete mai letto un suo tweet lui che tweet tutti i giorni su queste famiglie disoccupate per la chiusura di Italian Independent avete letto qualche cosa no non avete letto niente leggetevi il capitolo che lo riguarda e soprattutto il mistero di come mai con tutte le belle ragazze che gli sono state attribuite a cominciare dal mio idolo dopo mia moglie naturalmente Bianca Brandolini Dadda cugina come mai ha sposato la portoghese che è più grande di lui che ha due figli di cui uno che ha giocato anche nel giovanile della Fiorentina e che adesso troveremo in qualche squadra sicuramente come mai ha sposato questa qua allora leggete lì perché lo dovete leggere Agnelli Coltelli pensate che mi ha scritto il cavaliere Bartolomeo Agnelli della provincia di Bergamo quello che fa Agnelli Coltelli mi ha detto guardi io faccio soprattutto le pentole le famose pentole però c'è anche una divisione con i coltelli posso mandarle un ceppo con un po' di coltelli gli ho detto faccia lei per la pubblicità che mi fate di questo Agnelli Coltelli va bene grazie a tutti grazie grazie soprattutto a Italo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti